Sui capelli castani e neri, noti i capelli bianchi, non i riflessi. Frank Provo, il parrucchiere numero uno di Parigi. Ho creato nuove colorazioni per capelli scuri. Un colore luminoso, ricco di riflessi, che copre tutti i capelli bianchi. Il risultato? Un castano profondo, un nero vibrante. Frank Provo, la colorazione professionale oggi a casa tua.